Non fidarti mai degli amici, degli amici, degli amici o di tutti quelli che si atteggiano come esperti del tatuaggio. L'unica persona di cui ti devi fidare quando si parla di tatuaggi è un artista del tatuaggio, un tatuatore che abbia esperienza e una buona reputazione. È l'unica persona di cui ti devi fidare e nessun altro. Perché ultimamente c'è questa tendenza per cui chiunque è pieno di tatuaggi, se fatto una manica o due maniche, si atteggia e si crede un esperto dei tatuaggi. Ah perché devi fare così? Io lo so, io lo so, io lo so. È un po' come se vai dal dentista e solo perché ti sei rifatto la dentiera o ti sei fatto quattro ponti improvvisamente sei un dentista esperto? O perché hai portato la tua macchina una decina di volte dal meccanico? Wow, sei diventato un meccanico. Quindi fidati solo di un tatuatore che ha esperienza e una buona reputazione. Non ascoltare nessun altro.